È stata un'esperienza divertentissima e speriamo di rifarla. Abbiamo imparato tante cose bellissime da questo, per non sbagliare in futuro, soprattutto. L'esperienza bellissima di cui parla questo bimbo è la lezione di educazione stradale tenuta dai vigili della Polizia Locale di Bassano, che per la settimana vede protagonisti, ragazzini delle scuole elementari, cittadine, lezioni teoriche per conoscere meglio la segnaletica stradale e pratiche con percorsi in bici. e non sono mancate le sanzioni. Perché gli sta dando la multa? Perché costanti? Fa le sgomate e supera. La terza multa viene sospesa dalla circolazione per 5 minuti. Qui invece? Wilmer è andato contro mano. Wilmer all'incrocio aveva l'obbligo di girare a sinistra, non di scendere per qua. Va bene? Abbiamo imparato le regole della strada, così non ci facciamo male. Mi hanno fatto imparare molte lezioni. Soprattutto cos'è che hai imparato che non sapevi? Non sgommare. Abbiamo imparato anche i gesti del vigile, quando il semaforo è spento o gli manca la corrente. Io ho imparato che non bisogna andare molto veloce nella strada perché si possono causare incidenti molto gravi e andare in ospedale. Anche tu hai rispettato oggi il codice della strada, giusto? Sì. Com'è? Difficile? Un po'. C'erano delle cose che non conoscevi? Sì. Ma io le conoscevo tutti, sì dai. È il genio lui. Quindi non è stato difficile oggi? No, non è stato giusto. Io invece quella della freccia non mi era tanto presente. Io la precedenza. Ciao! Ciao!